Durante il periodo delle festività natalizie, in cui generalmente si rileva un aumento della domanda di ospitalità degli anziani, i carabinieri del NAS di Salerno hanno intensificato i controlli presso le strutture socio-assistenziali, allo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e di assistenza. Nel corso delle ispezioni sono state individuate quattro strutture che presentavano a vario titolo alcune non conformità, riconducibili allievi carenze igienico-sanitarie strutturali, organizzative o all'inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra le difformità più diffuse sono emersi l'impiego di un numero di operatori non sempre corrispondenti a quello stabilito per il mantenimento di un elevato livello assistenziale. La presenza di anziani in numero superiore rispetto alla capienza massima autorizzata, l'assenza di campanelli di chiamata in corrispondenza dei posti letto, bagni con piatti doccia rialzati rispetto al livello della pavimentazione, e la presenza di camere non contemplate o con superficie inferiore ai nuovi metri quadrati. Le irregolarità nelle modalità di erogazione del servizio sono state comunicate ai competenti piani di zona affinché vengano immediatamente rimosse.